Un'attacca rivoluzionaria. L'ospedale San Carlo di Nanzi di Roma installa la TC Revolution, unica nel suo genere nel Lazio ed accreditata con il sistema sanitario nazionale. La struttura ospedaliera romana dunque rinnova ed implementa il nuovo reparto di radiologia e diagnostica con tecnologie d'avanguardia. Questa TC di ultimissima generazione ci consente di eseguire esami cardiovascolari, in particolar modo la TC del cuore e delle coronarie, in un singolo battito cardiaco. Soprattutto va sottolineato che con l'impiego di questa nuova TC possiamo eseguire esami del cuore riducendo del 50% la dose di mezzo di contrasto che viene tradizionalmente somministrata con le altre apparecchiature. Inoltre va in particolar modo sottolineato come questa nuova TC permette di eseguire esami riducendo notevolmente la dose radiante al paziente di circa l'80% rispetto alle tradizionali apparecchiature TC attualmente ancora in uso in altre strutture. La TC Revolution è in grado di effettuare uno studio completo di patologie che riguardano varie zone del corpo, si punta sulla prevenzione in tempi brevi e sulla qualità delle immagini. La TC Revolution sicuramente dà la sua maggior spinta tecnologica negli esami cardiovascolari, ma lo studio di tutto il corpo è eseguibile su qualsiasi protocollo. Possiamo studiare il circolo intracranico per valutare o meno la presenza di aneurismi cerebrali, possiamo eseguire esami di colonoscopia virtuale, esami di screening del tumore del polmone con TC del torace a basso dosaggio, sino ad arrivare a studi vascolari del circolo di gamba come spesso ci viene richiesto per i pazienti diabetici dove la terosclerosi degli arti inferiori è sempre un problema molto sentito. Quando un paziente deve fare un esame del genere deve anche sentirsi a suo agio e la TC Revolution è pensata anche per questo. Questa nuova TC inoltre ha sempre un occhio di riguardo per il comfort del paziente, la macchia presenta un'apertura molto più ampia rispetto alle canoniche TAC attualmente in uso, è particolarmente silenziosa e cerca di mantenere al massimo il comfort per tutta la durata dell'esame del paziente che viene studiato. Non solo TC Revolution però ma anche altri macchinari innovativi. Recentemente oltre alla TC Revolution l'ospedale San Carlo di Nazia e più precisamente la diagnostica per immagini si è dotata di una risonanza magnetica di ultimissima generazione che non solo permette lo studio di articolazioni ma anche permette di eseguire esami RM del cuore ed RM della prostata.